A Teramo quest'anno per la prima volta durante la festa della Madonna delle Grazie non ci saranno le giostre, perché? Sì, hanno chiesto come ogni anno hanno avviato l'iter autorizzativo che prevede che questo tipo di spettacoli, di iniziative passano per la commissione di vigilanza comunale dove sono presenti i vigili del fuoco, la ASL, i tecnici che valutano l'impianto elettrico e praticamente passano prima per la valutazione del progetto, che quest'anno non è passata proprio, cioè nel senso che già lì si è fermata. Che cosa è cambiato nella loro domanda rispetto agli anni passati? È cambiato che purtroppo è sempre andata così, cioè negli ultimi due o tre anni è andata sempre così. Poi gli uffici comunali negli anni passati hanno deciso di dare e concedere comunque l'occupazione di suolo pubblico che è un altro iter separato. L'occupazione di suolo pubblico prevede che comunque loro inizino anche in fase di prescrizione della commissione, quindi di carenza documentale, inizino a montare. Poi siccome loro poi montano le giostre e noi poi con la commissione di vigilanza andiamo a fare la verifica se loro hanno fatto le integrazioni documentali del caso, siccome queste integrazioni non sono mai state fatte... Infatti l'anno scorso c'è stato questo problema? L'anno scorso c'è stato questo problema. Quest'anno gli uffici non hanno voluto assolutamente concedere l'occupazione di suolo pubblico, quindi l'autorizzazione ad iniziare a montare le giostre in carenza di documentazione e quindi l'iter si è bloccato lì. Noi abbiamo chiesto le integrazioni documentali che vi posso assicurare non sono poi così corpose perché bastava una relazione... Potrebbero farlo quindi? Sì, potevano farlo fino a... e poi alla fine penso che ormai abbiano rinunciato è una relazione tecnica semplicissima sull'impianto elettrico, sulle vie di fuga sono le prescrizioni che facciamo ad ogni manifestazione.